Siamo in fase di preparazione, di lavoro, cose Io ho fatto qua un piatto allo chef tagliatelle a pesto di mente e camberoni Guardate, guardate Qua c'è il mio amico Omar che fa la pizza Poi c'è Alì che scassa la guagliala No, la prima persona Ma la persona? No Poi c'è qui l'altro chef E tutta la sala che sono alle 5 e mezza e guardate la gente che fa fuori Bene, adesso vi sto facendo vedere la paella come si fa Mettiamo un po' di pesce misto Adesso lo metto a fare in fuoco Mettiamo un periodo Con la partire, perfetto Un po' di brodo di pesce Un colorante per colorarla Abbiamo la sua dose per due Di arroz Aggiungiamo un po' di brodo Un po' di acqua E un po' di tomato Sale e pepe Quando è pronto ve la faccio vedere Guardate che bella pizza che fa il mio amico Omar Eccola qua Un grande pizzaiolo Omar Bravo Omar, bravo, bravo, bravo Serietà Serietà Bravo ragazzi Eccola qua E' pronta Adesso l'amico Ha lì la sistema E' da marcia C'è questo qua che ha la griglia Ma di griglia oggi non ha nada E' da marcia 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 Grazie a tutti